Un po' già. Ora vanno a Ciro. Nel carcere di Ciro. E fu un cacciato. Ci giurava con una mazzacchuga, supa, caccia, un bravo, caccia. Allora lo cacciaron. E beh, ai Dio, caccia di ora. Lui va a chiamare un mandarano. Si. Un primo che è entrato, e lui aveva ammazzato il 29. Cronizzo. Che, c'è già che paga parte del cupoplexpo, i dati da più una mazzatus. Pau. Si Sharon Chiara guri di cura. Si C decclare di proprio periodo una mazzatura. Ero una mazzatura. Ero imponci. Ero una mazzata o pagato per ai commenti. Ero una mazzata a luoghiata. è un manzaro, è figliere non penso che c'è da fontana non penso che c'è da via di Gesù accambonato non penso che vedo la mia madre non è figliere un pezzo a pezzo i soldati la polizia la leggi i pezzi ho figliere pezzo a pezzo e però hanno 30 pezzo come ho detto io 30 morti 30 morti e chi stai passando? 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 e da che periodo ero? da prima del novecento? tu brigando un anno per dire c'era o era il tempo di vostro padre? no non c'era solo un anno e due quindi c'era? quando aveva ammazzato i due ero? no 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 i due ero? i due ero? i due ero? i due ero